Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia con Bob Italia. Questo è il terzo video in cui vi parlerò della storia di Alessandro Magno. Se vi siete persi i due precedenti andate a recuperare, sono usciti uno lunedì e uno martedì. Eravamo arrivati al 333 a.C. Alessandro aveva battuto nel suo primo scontro Dario III di Persia nella battaglia di Isso e si apprestava a conquistare il Medio Oriente. Dopo la vittoria di Isso Alessandro aveva due strade. Poteva o inseguire Dario III verso la Persia o muovere verso sud e cercare di occupare la Fenicia, l'attuale Siria e poi arrivare fino in Egitto, terre che fornivano molto denaro e molto cibo all'impero persiano. Scelse questa strada. Scelse questa strada non solo perché attirato da queste promesse, ma anche perché questo era l'unico modo che aveva per cercare di distruggere la flotta persiana, che fino a quel momento, essendo superiore in numero a quella macedone, gli aveva impedito di tenere e di regolare i collegamenti con la madrepatria. L'unico modo che aveva ovviamente per distruggere quella flotta era catturarla, o meglio farsi consegnare da coloro che materialmente quella flotta la manovravano, cioè i popoli sottomessi ai persiani le navi. Mentre marciava verso sud attraverso la Fenicia, gran parte delle città gli aprirono le porte. Lo facevano perché la Fenicia, come anche poi vedremo l'Egitto, erano territori molto riottosi che mal sopportavano il dominio dei persiani. La prima città che si oppose invece ad Alessandro fu Tiro. Anch'essa un tempo era stata una città stato-finicia, ma si era molto arricchita sotto l'impero persiano e credeva di poter sfruttare la flotta persiana presente nel suo porto per tenere lontano il re macedone e i suoi soldati. Inoltre contava sull'aiuto di Cartagine, che aveva promesso, almeno così pareva, di inviare aiuti economici, dei rati alimentari, ma anche militari. Quando Alessandro giunse alla città chiese di entrare. Chiese di poter entrare per prestare, per portare omaggio al dio locale, ma i maggiorenti di Tiro, il re di Tiro, gli si oppose e disse che se voleva farlo poteva entrare, ma solo nella parte di città che si trovava sulla terra ferma. Alessandro però non mirava quello. Alessandro mirava la città nuova, dove si trovava al porto e dove ovviamente non volevano farlo entrare e fu così, che anche per dimostrare di essere invincibile come molti pensavano che lui fosse, si decise a mettere sotto assedio la città. Credo sia uno degli avvenimenti più incredibili della storia di Alessandro, l'assedio di Tiro, perché dovete immaginare che quello che lui metteva sotto assedio non era la classica città sulla terra ferma circondata da mura, ma era una parte di una città situata su un isolotto poco a largo, separato da un piccolo stretto di mare dalla terra ferma e dalla città vecchia che lui aveva già praticamente conquistato, circondato da mura e difeso da una flotta. Nonostante avesse riunito la flotta delle città fenice che gli avevano aperto le porte e quindi fosse avesse finalmente una flotta superiore a quella presente, non riuscì ad occupare la città se non dopo sette lunghi mesi di assedio. Grosso modo da febbraio a settembre del 332 avanti Cristo. Gli uomini di Tiro furono molto coraggiosi, fecero di tutto per impedire l'assalto, bloccarono qualunque suo tentativo e, da quello che ci dicono gli storici, ne vennero fatti molti, dal tentativo di attaccare da più parti con le navi, assalti notturni, tentativo di costruire addirittura una banchina per poter arrivare con le truppe fino alla città. Gli uomini di Tiro usarano dei metodi molto ingegnosi, anche perché vi erano molti ingegneri specializzati in opere di guerra, addirittura sfruttarono degli antichi, una specie di palombari, antica forma di palombari per scendere sott'acqua e tagliare le ancore alle navi macedoni così che potessero scontrarsi e distruggersi. Dopo sette mesi però la città, che peraltro aveva saputo che gli aiuti cartaginesi non sarebbero mai arrivati fu costretto alla resa. L'ultimo assalto macedone ebbe ragione della città e Alessandro, che peraltro in quell'assalto perse un occhio, riuscì a conquistarla. Fece, non diciamo una strage, ma quasi, pare che uccise o vendette come schiavi quasi 8000 cittadini della città si fece consegnare la flotta e riprese la sua marcia verso sud. Sembrava che tutto fosse apparecchiato affinché potesse entrare in Egitto, ma proprio sulla via del Sinai venne nuovamente fermato da una fortezza. Questa volta era una fortezza di terra ed è bellissimo vedere come i suoi uomini, i suoi ingegneri, abbiano studiato due metodi così diversi per assaltare due fortezze così diverse. Da una parte Tiro, una fortezza circondata dall'acqua, dall'altra Gaza. Gaza, che noi adesso conosciamo tristemente per tutti gli avvenimenti degli scontri tra israeliani e palestinesi, è una delle città più antiche della terra e ai tempi di Alessandro Magno aveva delle mura molto possenti che passavano per essere tra le più grandi e inconquistabili che vi fossero nel mondo conosciuto. Le mura di Gaza avevano scoraggiato più di un esercito e al suo interno vi si trovavano le ultime forze persiane da lì all'Egitto. Alessandro anche in questo caso avrebbe potuto passare oltre, ma anche in questo caso decise di attaccare la città, nonostante i suoi generali gli facessero presente che fosse praticamente inconquistabile. Alessandro però e i suoi ingegneri studiarono due modi per conquistare la città. Il primo fu di iniziare a scavare delle gallerie sfruttando il terreno che era molto morbido per attaccare le mura e farle crollare. Dall'alto, visto che le sue torri d'assedio erano troppo basse e non riuscivano ad avvicinarsi alle mura stesse, fece costruire un terrapieno. Quindi immaginatevi, qua ci sono le mura, lui fece costruire un terrapieno, praticamente in terra e fango, che pare fosse alto addirittura 65 metri e sul quale fece posizionare delle catapulte per attaccare la città. I soldati all'interno tentarono una sortita per bruciarle, ma vennero sconfitti, anche se pare, pare, questo alcune fonti lo riportano, altre no, che addirittura durante l'assedio Alessandro fosse colpito da una pietra lanciata da una catapulta, che lo colpì mentre imbracciava lo scudo, lo sbatte a terra, gli ruppe una spalla, ma a quanto pare riuscì, nonostante il dolore, nonostante la spalla rotta, a guidare l'assalto e si arrese solo quando ormai per la perita di sangue stava per svenire. Catturata a Gaza, oramai Alessandro aveva la strada libera verso l'Egitto. Giunto in Egitto, venne incoronato Faraone. L'Egitto si era già ribellato, si aveva già scacciato i rappresentanti del gran re di Dario III, anche perché l'Egitto era in effetti stato conquistato, riconquistato l'impero persiano solo da pochi anni e, come aveva sempre fatto, desiderava scegliersi da solo il proprio sovrano. Una volta giunto in Egitto, Alessandro vi stazionò per alcuni mesi, tra la fine del 322 e l'inizio del 321. Durante questi mesi venne, come detto appunto, incoronato Faraone, re d'Egitto e per la prima volta le città da lui liberate non entrarono nella Lega Panellenica, perché quando avevano progettato insieme agli strateghi della Lega Panellenica, nessuno aveva pensato che potessero mai giungere a conquistare l'Egitto. Una volta in Egitto, Alessandro fonda anche la sua prima città. Diventerà un'abitudine nel corso del suo viaggio fondare città che porteranno il suo nome, Alessandria, ma la prima che fonderà in Egitto sul delta del Nilo, vicino all'isola di Faro, sarà anche quella più famosa, quella che più a lungo resisterà, cioè Alessandria d'Egitto. In effetti ne aveva già fondata una che si chiamava però Alessandretta e si trova vicino al sito della battaglia di Isso, ma la prima delle grandi città è sicuramente Alessandria d'Egitto, che esiste tuttora. E sull'isola di Faro, secoli dopo, venne costruito peraltro il faro di Alessandria proprio di fronte. In Egitto però avviene anche una delle cose più misteriose di questa storia di Alessandro. Pare che, avendo sentito di un santuario dedicato a Zeus Amon, quindi una specie di dio nato da una crasi tra Zeus e Amon, Amon-Ra, dio degli egiziani, avesse deciso di intraprendere un lungo viaggio attraverso il deserto, 200 chilometri fino all'oasi di Siwa, che si trova al confine libico, o meglio attualmente direttamente proprio in Libia. Una volta arrivato nell'oasi di Siwa, arrivato al santuario, e già l'arrivo fu incredibile, si narra di leggende in cui dei corvi gracchiandoli guidassero sulla strada giusta, Tolomeo, quindi un suo generale, riporta che dei serpenti parlanti li avrebbero guidato lungo la strada. Ebbene, giunto al santuario di Zeus Amon, pare che Alessandro abbia chiesto se avrebbe conquistato l'Asia. Egli fu risposto di sì che egli avrebbe conquistato l'Asia, ma poco dopo egli venne chiamato, secondo alcuni per errore, come figlio di un dio. Figlio di un dio che in effetti non poteva che essere Zeus, Amon, e quando Alessandro tornò in molti iniziarono a pensare che in effetti lui fosse figlio di un dio, cosa che peraltro sua madre Olimpiede, come avevo detto nel primo video, aveva già più volte detto. Siamo all'inizio del 321. Dopo aver conquistato l'Egitto, all'in primavera del 321, Alessandro, riunito l'esercito all'incirca 35-40 mila uomini, tornò a muovere verso est. Dario intanto non era stato con le mani in mano. Aveva per alcuni mesi mandato dei diplomatici a parlare con Alessandro, gli aveva addirittura promesso la pace in cambio del pagamento di oro, il matrimonio con una sua figlia e addirittura la cessione di tutti i territori che si trovavano ad ovest delle Eufrate, sostanzialmente dividendo da una parte la Persia e dall'altro il regno di Alessandro. Alessandro però aveva rifiutato. C'è un famoso scambio che viene riportato in cui Parmiglione, interrogato che sembrava non essere d'accordo con Alessandro sul rifiutare questa proposta di pace, venisse interrogato da Alessandro che gli chiedesse cosa voleva fare. Parmiglione disse, se io fossi Alessandro accetterei l'offerta, ma Alessandro gli disse, se io fossi Parmiglione direi la stessa cosa, ma dato che sono Alessandro la rifiuto, perché come non vi possono essere due soli in cielo, così non vi possono essere due re dei re. Dario, una volta capito che non avrebbe mai ottenuto la pace, aveva riunito un esercito. Un esercito che gli storici dell'epoca narrano essere uno dei più grandi che si fosse mai visto. Addirittura Ariano dice che si tratta di un milione di uomini, cifre ovviamente enormi, assurde ed è impossibile che volessero mossi degli eserciti di queste dimensioni, ma possiamo pensare che si trattasse di un esercito anche superiore a quello schierato a Isso fino a 150.000 uomini. Dario, che non voleva ripetere l'errore di Isso, dove era stato obbligato a combattere dove Alessandro voleva, aveva deciso di aspettarlo. Pensando che Alessandro avrebbe marciato dritto verso Babilonia, aveva mandato alcuni suoi uomini a infastidirlo, quantomeno nell'attraversamento del Tigre delle Eufrate, cosa che avrebbe potuto probabilmente rallentare e ridurre il numero di truppe a disposizione dei Macedoni, e poi l'aveva aspettato. L'aveva aspettato in una piana, una piana molto larga, una piana senza colline, senza specchi d'acqua, una piana dove i suoi carri falcati avrebbero avuto facile gioco, non solo, ma avrebbe potuto schierare le sue truppe in gran numero, senza i limiti che gli erano stati imposti appunto durante la battaglia di Isso. Ancora una volta però Alessandro Magno lo stupì. Non marciò verso sud, dove lo aspettavano i soldati di Dario, ma marciò verso nord, una strada più lunga, che però gli permise di attraversare l'Eufrate e il Tigre praticamente senza avere difesa. Secondo alcuni storici in realtà la manovra di Dario fu proprio quella di far credere di voler fermare Alessandro lungo il fiume, in realtà di farglielo attraversare per poterlo aspettare nella piana dove voleva. In ogni caso, in ogni caso, sappiamo che per fine settembre, inizio ottobre del 331 avanti Cristo si sarebbe svolta la battaglia definitiva tra Alessandro Magno e Dario III. Conosciamo la data, conosciamo la data che molto probabilmente è il primo ottobre del 331 e lo conosciamo per una particolarità, perché pare che alcuni giorni prima della battaglia viene riportato un numero di giorni Alessandro abbia assistito a un'eclissi totale di luna, che venne da lui interpretata come un segno favorevole, un segno di cambiamento, come qualcosa, il sole che va a coprire, lui si riteneva il sole che va a coprire la luna. Nella piana di Gaugamela tutto era pronto per lo scontro, da una parte 130, 150, crediamo anche alle fonti, un milione ovviamente non è vero, di uomini persiani, dall'altra 30, 35, 40 mila macedoni. Questa volta lo scontro era decisamente impari, anche perché il re dei re avrebbe potuto schierare tutte le sue forze. Ora, provate a immaginare, credo di star mettendo un'immagine in questo momento, le forze di Alessandro, seppur disposte anche loro lungo la linea, non erano minimamente in grado di contrapporse efficacemente a quelle del re dei re, perché i persiani erano talmente tanti che la loro linea superava in lunghezza sia in un senso che nell'altro le forze dei macedoni. Alessandro quindi pensò a questo, schierò ovviamente da una parte, come aveva sempre fatto i suoi cavalieri a cui si mise a capo, e poi creò sostanzialmente due file, una sul fianco destro, più piccola, e una sul fianco sinistro che era al comando di Parmiglione, che però fuse insieme, quasi in un unico corpo. Dopodiché creò una seconda fila, questa seconda fila si dispose, se questa è la prima fila, lateralmente, leggermente allargato, come fossero delle ali, affinché potesse intervenire, quasi nascosti, qualora i persiani avressero cercato di aggirarlo. Ora, Dario si aspettava che sarebbe stato lui il primo ad attaccare, eppure al tempo stesso, temendo ciò che era successo a Isso, non voleva essere lui a fare la prima mossa, perché non voleva ritrovarsi nella stessa situazione con i reparti che si scollavano. Alessandro aveva quindi bisogno di obbligarlo ad attaccare, e per farlo, curiosamente, ordinò alle proprie truppe di avanzare, ma non di avanzare direttamente verso il nemico, ma di spostarsi, spostarsi leggermente verso destra, e così facendo lentamente uscire da quel terreno che il re dei re aveva pensato per lo scontro. Questo obbligò Dario ad attaccare. Le sue forze si lanciarono in avanti. Aveva 15 elefanti, anche se pare che non abbiano partecipato allo scontro, ma soprattutto aveva moltissimi carri falcati, che lanciò contro le forze dei macedoni. Questi però, e lo si vede benissimo peraltro nel film di Oliver Stone dedicato ad Alessandro Magno, avevano preparato una trappola per i carri falcati. Quando questi arrivarono nei pressi della falange, le prime file si aprirono, e i cavalli che non volevano caricare le lance situate proprio dietro, si fermarono, cosicché i macedoni poterono massacrare le truppe che erano sui carri. Questo però non fu anche il primo attacco. Poco dopo, infatti, le linee più avanzate dei due eserciti arrivarono allo scontro. Le forze persiane erano preparate, avevano armatura pesante, erano state riadattate a combattere contro la falange macedone e riuscirono ad offrire, anche grazie alla presenza di 10.000 immortali e alla loro forza d'urto, una difesa e un attacco incredibile contro il nemico. Parmignone stava reggendo l'urto. Nello stesso momento, sul suo fianco destro, Alessandro, con la sua cavalleria supportato da alcuni reparti di pezzeteri, di armati di lunghe lance, stava massacrando la cavalleria persiana. Una volta sconfitta la cavalleria persiana, ancora una volta fu uno di quei momenti in cui Alessandro riusciva a capire perfettamente dove e quando attaccare. Ancora una volta lo scontro aveva portato a uno scollamento delle truppe. Ancora una volta, nonostante i tentativi di Dario di impedirlo, ancora una volta le truppe si erano separate. Alessandro lanciò la sua cavalleria come un cugno. Si dice che addirittura lui fosse la punta più avanzata di quel cugno, seguito dei suoi compagni, poi seguito dai suoi cavalieri e ancora dietro dalla fanteria delle lunghe lance che lo seguì. Questo cugno ancora una volta sfondò l'esercito persiano, attaccando verso il cuore, attaccando verso Dario III. Quello che successe è difficile da capire, anche perché gli storici hanno molta difficoltà a ricostruire questa battaglia, anche perché fu difficile ricostruirla per i coloro stessi che vi combatterono, dato che, e su questo tutti concordano, anche i diari di Tolomeo che furono poi usati da Ariano, la battaglia ben presto scomparve sotto una gigantesca nuvola di polvere che impediva ai reparti stessi di vedersi. Alessandro stava puntando verso il cuore. Secondo alcune fonti, ancora una volta Dario nel vederlo arrivare scappò. Alcuni dicono che Alessandro ancora una volta prese una lancia, la lanciò contro il re dei re colpendo e uccidendo colui che portava il carro. Ma Dario, una volta visto questo, visto siamo al partito, fuggì lasciando indietro l'esercito. Secondo un'altra versione riportata da alcuni, peraltro, contemporanei persiani, Dario non fuggì. Ma quando Alessandro riuscì a sfondare verso il cuore dell'esercito, fu proprio quell'esercito ad abbandonarlo, fuggendo in tutte le direzioni, costringendolo così a ritirarsi. Ancora una volta Alessandro aveva la possibilità di catturare Dario, ma ancora una volta fu obbligato a fermarsi, perché le forze di Parmiglione erano nuovamente allo stremo. Nuovamente al vecchio generale di Filippo era stato chiesto di reggere l'urto, l'aveva fatto, ma ormai le sue forze non ce la facevano più. E così ancora una volta Alessandro fu costretto a volgersi e a distruggere le forze che avrebbero potuto altrimenti distruggere il suo esercito. Anche se Dario non fu catturato, la battaglia di Gaugamela fu a tutti gli effetti la battaglia decisiva. L'esercito, Dario sperava di potersi ritirare verso este e creare un nuovo esercito, ma la vittoria in quella battaglia aprì le porte ad Alessandro per la conquista del cuore dell'impero persiano. Nei mesi successivi occuperà Babilonia, che gli aprirà le porte, occuperà Susa, dove troverà la grande capitale dell'impero persiano, dove troverà oro, ricchezza, addirittura l'Arem dello stesso Dario e le sue mogli. Occuperà Persepoli, che è l'antica capitale persiana, che si dice fece addirittura bruciare per vendicare l'incendio di Atene portato durante la seconda guerra persiana. Oramai era padrone del mondo, oramai era padrone dell'Asia. Dario fuggiva insieme ai suoi satrapi, fuggiva verso este, sperando di ricarare un esercito che non avrebbe mai ricreato. Qualcuno si sarebbe fermato, ma Alessandro non si fermerà. Non si fermerà adesso, non si fermerà ancora per molto tempo. Siamo nel 331 a.C. La storia di Alessandro non è ancora finita, ma la finiremo domani con la quarta e ultima puntata. Io intanto vi saluto, vi ricordo che se volete discutere di questo e altri argomenti storici, venite sul foro di Bop Italia. Io vi ricordo di essere curiosi perché la storia è meravigliosa e piena di cose incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà, ammetterebbe mai nelle proprie opere. E se volete iniziare a essere curiosi, qui a fianco alla mia destra c'è l'elenco delle pillole. Uscite fino adesso. Io vi saluto, ci vediamo domani con la quarta e ultima puntata. A domani! Ciao ciao!